Salve a tutti, l'argomento di questo video è l'unboxing della tastiera Microsoft Bluetooth per tablet Wedge Mobile. Come vedete la tastiera viene fornita in una confezione piuttosto elegante. Ecco la tastiera che è formata da una base di alluminio piuttosto massiccio, sotto c'è lo scomperto pile, è una tastiera di passo quasi standard, larga in grosso modo quanto un tablet da 10 pollici, ma non esattamente di passo standard. Ovviamente abbiamo le solite pile, vengono fornite due pile alcaline mini stilo. La confezione ha una specie di doppio fondo che contiene il copritastiera, il materiale plastico ripiegabile che si duplica anche come supporto per tablet. Ovviamente c'è sempre la solita pletora di manualetti e libretti di garanzia abbastanza inutile. La tastiera è stata introdotta qualche settimana fa a un prezzo eccessivo di circa un'ottantina di euro, adesso si trova tranquillamente online presso alcuni grandi market a una cinquantina di euro. Vediamo meglio la tastiera. Nella parte inferiore c'è lo scomparto pile, come dicevo due pile alcaline, funzionano anche le pile ricaricabili, ma per gli utenti mobili le pile normali sono in realtà più pratiche. Vediamo meglio l'utilizzo con il tablet. La tastiera si accende con una combinazione di tasti FN più ESC, il tasto ESC ha anche un simbolo apposito, si attiva il bluetooth sul tablet e la tastiera, una volta fatta una prima volta l'associazione, è subito disponibile. Questo è il coperchio che funge anche da supporto, il materiale è come dicevo piuttosto buono, di aspetto piuttosto gradevole. La tastiera è nata per Windows 8 per la modalità, però funziona perfettamente anche con vecchia versione di Windows e soprattutto con Android. Anche alcuni, non tutti, dei tasti funzione specifici per Windows 8, come vedete i tasti del volume e anche quelli Play Stop funzionano perfettamente anche su Android. Vediamo la digitazione, questa volta con il solito Kingsoft Office e il work processor integrato. La digitazione non è paragonabile a quella di una tastiera con passo standard, ovviamente. Se siamo persone che digitano in maniera relativamente rapida, la differenza si nota subito, la differenza comunque si nota anche e soprattutto rispetto alla tastiera virtuale di Android. Viste le ridotte dimensioni e la leggerezza di questo dispositivo, il vantaggio di avere una tastiera separata senz'altro si fa sentire. Adesso vediamo il nostro Mediacom 101 S2 in posizione verticale sul coperchio trasformato in supporto. Anche in questo caso il tablet, che pesa circa 600 grammi, è sostenuto senza problemi dal supporto, che è piuttosto comodo in effetti. Un'idea piuttosto carina da parte di Microsoft. Proseguiamo con il nostro test di digitazione. Ci si abitua piuttosto rapidamente al passo della tastiera. Adesso vediamo come interrompere l'utilizzo della tastiera. Si spegne la tastiera con la stessa combinazione di tasti utilizzata per accenderla e il supporto ridiventa coperchio. Se ci fossimo dimenticati di spegnere la tastiera, spegne anche la tastiera. La tastiera da sola pesa circa 250 grammi, il coperchio supporto 200, quindi si arriva a poco più di 450 grammi. La tastiera non è leggerissima dunque però col coperchio è piuttosto ben protetta e può tranquillamente sopravvivere a un trasporto in borsa o nello zaino. Tutto qui, credo che questa soluzione rispetto ad altre, per esempio a cover con tastiera integrata, sia decisamente più pratica. Un saluto a tutti e alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.